Io al massimo mi scoppio a ride perché è marazzino Ma giusto, poi se c'hai degli incubi, guarda, è un uomo che ti può consolare, va bene Sei pronta? Allora, ferma così guardando a me, brava Poi... Sembra che se adesso c'hai degli incubi, se c'hai dei tuoi incubi che la tratta Ottimo, guarda qua sempre, ottimo Vai che stai piano piano, ti vedo entrando nel ruolo della modella Guarda qua Ottimo, ottimo Mantieni sempre quella posizione di tre quarti che è lo stile di novella, no no, di Vogue, non so, da qualche vista Perfetto Cosmopolitan Brava, si dai Voglio convinti e piaccioni, così Pazza Anche tu sei indiato a qualche rivista maschia Non so se c'è da preoccuparsi o... 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 Sì che è meglio Se non ti dispiace... È meglio Eh fra qua c'è sta un surplus di fusilli che è il mio movimento di mano adesso guarda... Allora facciamo una cosa proprio... Due tre pelazzi proprio... Almeno là non danno caldo No no no, anzi guarda... È un'espressione distesa, fresca... Glaciale 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 Quando si arrabbia forse avrà l'espressione glaciale per ora non mi pare No, è vulcanica Allora che preco? Com'è? Vulcanica di solito Vulcanica? Eh bene adesso I capelli come la piglia e lava Esatto Adesso Vi ho quasi fatto eh? A meno che... Sistemo... Il look qua Passiamo tra poco al masculo Uomo Uuuu Sei emozionato per la parola masculo? Sì Uuuu Allora, naturalmente io qua ho finito ma la guardiamo alla fine ovviamente eh Allora, adesso il nostro uomo È cortesia stessa cosa che ha fatto la nostra modella Metti leggermente i tre quarti Ottimo così Bravissimo Allora Bravissimo Con questa espressione un po' alastaglio guarda andiamo d'amore e d'acqua Ecco sempre così Lucci per il caso c'è una... una ragazza qua che non conoscerà che sta ridendo di tema È perché... è perché cosa vuole una donna da un uomo sempre? È la fascia E quindi è tutto ovvio Eeeh Cazzo E io faccio poco E allora Perfetto 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 Stanno per arrivare gli sposi Fabio e Fabiana Pronti per accoglierli E allora ci sistemiamo tutti pronti per accogliere i nostri sposi sotto la scalinata Eccoli qui che stanno per arrivare Perfetto Perfetto Beh Io l'ho conosciuto che aveva i capelli lunghi Col tempo li perde Eh lo so Poi è diventato serio Esatto C'è gente che a 40 anni ancora porta i capelli lunghi Ma questi sono personaggi proprio Sono personaggi proprio Sì sì Sono persone che proprio che mai mi sento pure disegnare Ma non ciò perde Ciò perde Allora io nel frattempo ho finito Io vi ringrazio molto se siete stati molto professionale E vado Siete pronti E pronti a farci di cosa E voilà Prego Benissimo Ecco perchè quando i modelli sono figli Non può che venire figo Allora Grazie mille Grazie a te